Mi è fatto molto piacere, è una sorpresa, ho ringraziato pubblicamente il Presidente perché questa cosa, oltre che a me, a tutti i giornalisti non ci fa sentire soli. L'ultimo atto da Presidente della Repubblica di Giorgio Napolitano è stato conferire l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica a Lirio Abate, giornalista dell'Espresso ripetutamente minacciato di morte dalla mafia a causa delle sue inchieste giornalistiche che hanno fatto conoscere ai cittadini collusioni fra politica e criminalità organizzata, a volte anticipando clamorose indagini giudiziarie come quella di Roma Capitale. Un importante segnale, afferma il giornalista, per tutti quelli con la schiena dritta. Un valore simbolico enorme perché ti fa vedere che lo Stato è accanto a te, non ti lascia da soli, ma l'ho vista e la interpreto come un segnale che viene fatto a me, ma per tutti i giornalisti, come voi, come tutti, che in Italia ci sono e continuano a fare questa professione con la schiena dritta. L'occasione per incontrare Abate è data dal primo di un ciclo di incontri organizzati da FAI, associazioni anti-racket, i giovedì della legalità, reading di storie di legalità in luoghi simbolo, quelle attività commerciali che si sono ribellate al pizzo e all'usura. Si parte a Napoli, a Portalba, nella storica attività commerciale a Morio, spiega l'iniziativa Tano Grasso, presidente onorario FAI. Abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa dei giovedì dell'anti-racket, basata sulla presentazione di libri attraverso un'iniziativa itinerante. Oggi siamo qui, ritorneremo qui il 19 febbraio, ma poi vogliamo farlo anche in altri luoghi, anche in ristoranti e in luoghi che non sono tipicamente librerie, al fine di valorizzare questi esercizi commerciali che rappresentano un pezzo fondamentale alla storia di questa città perché sono esercizi commerciali che si sono caratterizzati per aver denunciato il pizzo, per aver denunciato i racket e per essersi opposte.